Le utenze luce e gas sono senza dubbio una delle voci che più pesano sulle spese familiari. Per questo cadere in offerte allettanti che promettono super sconti o tariffe molto vantaggiose può essere molto facile. Tra i canali più usati dai truffatori c'è il telefono attraverso il quale raggiungono facilmente le vittime delle frodi, purtroppo sempre più frequenti. A mettere in guardia i cittadini dopo le nuove segnalazioni di tentativi di raggiri è Estra che avverte di prestare molta attenzione ed invita a segnalare questo tipo di episodi quando avvengono. Sono stati infatti segnalati casi di comportamento scorretto adottato da altri operatori energetici che pur di acquisire il cliente non conoscono il remore di comportamento spacciandosi per operatori di Estra. Si tratta in particolare di soggetti che hanno come unico obiettivo quello di far sottoscrivere con l'inganno nuovi contratti con altri operatori. Questi soggetti non hanno alcuna relazione però con l'azienda, chiamano i clienti Estra proponendo cambi di tariffa. Estra sottolinea poi di non effettuare chiamate ai propri clienti per variazioni di tariffe o listini e ricorda che qualora un cittadino ritenga di essere stato truffato può recedere dal nuovo contratto anche se già firmato senza alcuna spesa entro 14 giorni lavorativi. Comportamenti di questo genere sono già stati sanzionati da numerosi tribunali italiani e l'azienda adesso si riserva di procedere per vie legali.